Dopo il primo lockdown generale della scorsa primavera, in estate, è ripreso il progetto Rehousing avviato nel 2019 grazie alla collaborazione tra la Fondazione Sisi Caritas e la Fondazione Santa Caterina di Perugia che hanno costituito un'associazione temporanea di scopo che presenta come capofila la società cooperativa sociale con Chiara. Il progetto Rehousing è tra i progetti sperimentali del terzo settore finanziati con fondi POR-FSE e FESR 2014-2020 della Regione Umbria e ha l'obiettivo di fornire un alloggio temporaneo a famiglie e persone in disagio abituativo che permetta di riorganizzarsi per poi riconquistare la propria autonomia. Dopo due famiglie di 8 e 5 persone ospitate a Villa Postignano, comune di Nocera Umbra e a Casa Castalda, comune di Valfabbrica, in due appartamenti delle rispettive parrocchie nella prima metà di dicembre ha preso possesso del nuovo appartamento anche una terza famiglia di 8 persone presso una struttura adibita per il progetto a Viole di Assisi. Oltre alla volontà di dare una risposta concreta all'emergenza abitativa che era scoppiata già prima dell'avvento dell'emergenza sanitaria ed economico-sociale causata dal Covid c'è un secondo e altrettanto chiaro obiettivo che si lega al primo garantire l'utilizzo e la buona gestione di immobili che altrimenti resterebbero inutilizzati per evitare malfunzionamenti degli impianti e depauperamento dello stesso patrimonio immobiliare. Proprietari di immobili, privati o anche rappresentanti di soggetti giuridici che volessero entrare in contatto con l'equipe del progetto e chiunque volesse chiedere informazioni